Musica Ingresso in campo, sesta giornata Super Eleven, Virtus Neapolis contro FC Dios, arbitra Alessandro Passarella Arbitro con la casacca gialla e vediamo le due squadre arrivare in centrocampo per salutare pubblico e avversari Vediamo la Virtus Neapolis Completo bianco per la Virtus come al solito, mentre ecco la FC Dios, completino nero questa sera Scorre FC Dios per salutare avversari e arbitro, noi ci stiamo avvicinando per seguire il tocco palla a campo che ci sarà a breve tra i due capitani Dedica speciale, Pafundi, palla un po' per noi, Pafundi Allora ragazzi, già sapete chi trova il fischietto, sceglie il campo, che la palla non ve la vogliamo dare Se vuoi il fischio compra l'arbitro, vai sceglite Campo per la Virtus Neapolis Di là cambio campo per la Virtus palla per l'FC Dios Ricordiamo Passarella, peggiore arbitro della stagione sportiva che va dal 2000 al 2014 14 anni di incompetenza arbitrale Vi salutiamo qui, rivediamo a Bersi, tutto il primo tempo, ciao ragazzi Allora ragazzi, ciao ragazzi Allora ragazzi, ciao ragazzi Ciao ragazzi, ciao ragazzi Ciao ragazzi, ciao ragazzi Ciao ragazzi, ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti